Musica Davide Peterman, benvenuto a Dentro la Scatola, un format del Calcio Fogge 1920, per raccontare i protagonisti di questa stagione 2022-2023. La scatola è già stata aperta da Mr. Fabio Gallo nella prima puntata e quello che c'era dentro è un tablet che proverà a raccontarvi, a farvi raccontare i nostri microfoni ufficiali. Davide, partiamo con la prima immagine, la guardi e ce la commedi, insomma. Vado? Vai! Allora, un campo da calcio? Penso che, insomma, già l'immagine dica tutto. Beh, sì, diciamo che sono cresciuto su un campo da calcio, quindi già da quando ero piccolo i primi passi in un campo da calcio e questo percorso fino ad oggi mi ha regalato tante soddisfazioni, mi ha regalato tante emozioni, tanti momenti anche negativi, però diciamo che questa foto rappresenta ad oggi tutta la mia vita. Hai sempre desiderato di fare il mediano, come canta Ligabue, una vita da mediano, oppure da ragazzo hai anche ricoperto altri ruoli? Ma, ovviamente da ragazzo giocavo in attacco, quindi penso che la cosa più bella quando sei bambino è fare gol, quindi giocavo in attacco e segnavo anche tanto. Oggi gioco un po' più indietro, ma un po' mi conoscete appena posso, cerco di andare avanti, di dire, di segnare, però penso che col passare degli anni è il ruolo che mi ci addice di più e sono comunque orgoglioso di farlo. C'è un mediano che studi con particolare interesse? Ma essendo romano e romanista per tanti anni ho guardato Daniele De Rossi, penso che guardando anche sempre le parti della Roma sono sempre stato affascinato dal suo carisma, dal suo impegno, dal suo attaccamento alla maglia. Quindi come ho detto, essendo romano e romanista lui è stato un punto di riferimento. Seconda immagine? Seconda immagine il numero 25. Perché il numero 25 di Trova Malia Rossonera? Allora, più semplicemente direi perché è il giorno del mio compleanno, quindi è un numero a cui sono particolarmente legato. Poi l'anno scorso mi ha anche portato fortuna in diverse occasioni, quindi mi ci sono legato ancora di più e mi piace insomma indossarlo sulle spalle. Non è un numero banale o comune, quindi lo ritengo proprio il mio numero. Avanti! Qua c'è il mio cane. Apriamo un tema importante perché poi questo è un format per raccontare anche le vostre relazioni sociali al di fuori del mondo del calcio. Lì ci sono due temi in questa immagine, c'è il mare, penso sia una tua passione da quanto mi risulta, e poi c'è il tuo cane. Sì, allora il mare è uno dei posti che io preferisco anche solo fare una passeggiata, stare lì seduto e guardarlo. Infatti spesso appena posso faccio una scappata. Per quanto riguarda il mio cane è stata una cosa un po' così casuale. L'ho trovata l'anno scorso proprio qui a Foggia dopo un allenamento. Non era nei miei programmi prendere un cane perché comunque sia molto impegnativo con la nostra vita, che siamo quasi sempre in viaggio. Non sapevo bene come gestire la cosa. Però ad oggi penso che non potevo fare scelta migliore. Mi ha cambiato totalmente la vita e non saprei vedermi senza di lei ad oggi. Hai avuto anche altri animali in precedenza? Ho avuto un cane a Roma che però purtroppo vedevo poco perché non stando mai a casa stava sempre con i miei genitori. Comunque ero molto affezionato anche a lei, però è un po' diversa la cosa perché con lei mi ci sveglio, è la mattina e ci vado a dormire la sera, mentre purtroppo l'altro mio cane riuscivo a vederlo veramente poco. Davide, prossima immagine, una foto che insomma si ricollega a quanto hai detto in precedenza, al numero 25, perché è un'immagine che ricorda il Natale. Tu sei nato il 25 dicembre e quindi proprio il giorno di Natale. Cosa rappresenta per te il Natale? Insomma dalle tue parole abbiamo capito anche l'attaccamento che c'è alla tua famiglia. Beh sì, il giorno di Natale è un giorno speciale anche perché io sono andato via di casa molto presto, quando avevo 15 anni, quindi la maggior parte della mia infanzia non l'ho mai passata in famiglia con i miei genitori, i miei parenti. Quindi diciamo che il giorno di Natale è il giorno in cui ritrovo tutti, ritrovo i miei cugini, il mio fratello, la mia famiglia. Insomma, quindi è un giorno a cui tengo particolarmente, anche perché poi sono festeggiato, quindi diciamo che più che il Natale è il mio compleanno. Però a parte gli scherzi è un momento in cui ci ritroviamo tutti e io stando sempre lontano è un giorno a cui sono molto legato e che passo con molto piacere insieme alla mia famiglia. Da Natale, insomma, quest'anno il campionato di Serie C si fermerà il 23 dicembre, il Foggia sarà protagonista in trasferta a Latina per la prima partita del giorno di ritorno. Andiamo all'ultima immagine, la quinta ed ultima immagine, che in realtà poi dice tanto. Questo sì, è il centro di Foggia. Questa è Piazza Cavour, è nel pieno centro della città e da qui iniziamo a fare una chiacchierata un po' più lunga rispetto a quella che abbiamo fatto in precedenza. Cosa ha rappresentato nella tua carriera da calciatore all'arrivo a Foggia? Allora, se devo dire la verità, l'anno scorso quando da Cesena dovevo venire a Foggia tante persone mi hanno detto a Foggia. Ma sei pazzo, da Cesena a Foggia cambia tutto. a livello di città. Io invece, l'ho detto più volte, che secondo me Foggia, da chi non è stato qui, da chi non la conosce abbastanza bene, è un po' troppo sottovalutata, viene sponsorizzata un po' troppo male. Io ho trovato una città bella, ho trovato delle persone fantastiche. Ormai è un anno e mezzo che vivo qui e ci vivo alla grande, non ho mai pensato che non mi piace vivere qui o che sarei voluto andare via. Quindi mi sento molto legato, mi sento a casa, non mi manca praticamente nulla. Poi ovviamente io, non essendo di qua, non conosco magari alcune problematiche che ci possono essere, che però io comunque so tante problematiche anche che ci sono a Roma. Quindi capisco che ci sono dei problemi, capisco che tante persone magari non si trovano bene qui a Foggia. Io però la reputo una città bella in cui si riesce a vivere bene. Io dal mio canto posso dire che non mi è mai mancato nulla e sono veramente felice di viverci. Davanti a te hai un tavolo e su questo tavolo c'è quello che per i Foggiani è un qualcosa che va oltre, un marchio, un luogo di una scuola di calcio che sono i satanelli. Il ricordo più bello che in questo anno e mezzo ti viene in mente così a Brucio Piero? Beh, allora, di ricordi belli ne ho tanti. L'anno scorso quando sono arrivato ho sentito molto spesso di far tornare l'entusiasmo ai tifosi che si sa vivono per questo. Dalla mattina alla sera vivono la giornata aspettando poi la partita della domenica come noi giocatori. Io penso che uno dei ricordi più belli sia quello di aver fatto arrivare a Chiavari tutti quei tifosi, perché comunque era una trasferta lunghissima e l'immagine di quella curva strapiena laggiù è forse la soddisfazione più bella, forse anche più bella di un gol perché ti rende orgoglioso di aver fatto vivere delle emozioni a queste persone che vivono per questa maglia, per questi colori e quindi penso che quello sia il ricordo più bello di quest'anno e mezzo. Lungo il corridoio che poi porta all'ingresso dello Zaccheria, all'uscita dello Zaccheria, a destra e sinistra sui muri ci sono delle immagini, dei poster molto grandi che ritraggono i grandi protagonisti della storia del Foggia del passato, da Beppe Signori a Gianni Pirazzini a Cosimo Nucera, bomber indiscusso del club rosso-nero. Tra vent'anni Davide Peterman si immagina su quei muri? Beh, questa è una domanda un po' difficile, io sicuramente per arrivare al livello di quei calciatori c'è tanto da fare, io finché sarò qui a Foggia trovo tutto me stesso come sto cercando di fare sempre, sono rimasto questa estate perché mi sento veramente legato alla città, ai tifosi, alla ciosità, a tutto quello che riguarda il calcio Foggia. Poi se dovessi raggiungere il livello di essere attaccato dentro il muro dello Stato dello Zaccheria sarà solo un orgoglio, ma insomma so che c'è ancora tanto da fare. Un'ultima domanda, cosa porta Davide Peterman a casa dopo dentro la scatola? Cosa porto dopo? Dopo dentro la scatola, dopo la registrazione di questa puntata? Ma mi porto un'altra giornata bella, comunque sia entrare qui è sempre bello, sia per un allenamento, per una partita, per un'intervista, per raccontarmi. Spero di essere apprezzato dalle persone, non solo come calciatore ma anche come uomo fuori dal campo, cerco di essere sempre disponibile con tutti perché come ho detto prima mi sento veramente legato a tutto quello che riguarda Foggia, quindi torno sempre a casa felice, torno sempre a casa sereno e per chi fa questo lavoro lontano dalle proprie famiglie è la cosa più importante, insomma vivere bene, stare bene nella città in cui ti trovi e con le persone con cui ti relazioni tutti i giorni. Quindi posso dire che in quest'anno e mezzo sono veramente felice. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.